Cari amici appassionati di buona musica, bentornati a questo novantunesimo appuntamento con Ti Consiglio un Disco. Oggi vi voglio consigliare un disco del 2020, quindi torniamo a mettere i piedi saldamente sull'anno in corso, cercando anche di trovargli uno sprazzo di positività, visto che proprio sarà sicuramente un anno da dimenticare. Ma non sarà un anno da dimenticare, per fortuna almeno per la musica, perché ci sono stati alcuni dischi che sono usciti quest'anno che sono veramente molto interessanti. Il disco che oggi vi voglio consigliare è un disco strumentale che sta un po' tra tanti generi, anche se diciamo si può soggettare un po' al jazz, ma in realtà è qualcosa di molto moderno, che racchiude molti colori, molte nuance potremmo dire. Lui è un trombettista, la band si chiama, è anche il disco Big Vicious, e lui è Avishai Cohen. Avishai Cohen, come vi ho detto già, è un trombettista, è di origini israeliane, anche se vive prevalentemente negli Stati Uniti, e bisogna stare un po' attenti perché esiste sempre nell'ambito jazz, ed è un nome abbastanza noto, un altro Avishai Cohen, sempre di origini israeliane, che invece è un bassista. Big Vicious è il nome della band che ha formato da qualche anno, ed è appunto anche il nome che hanno dato al loro disco di quest'anno. La band è un quintetto, è formata appunto da Avishai Cohen alla tromba, poi abbiamo Uri Ramirez alla chitarra, Jonathan Albalak o Albalak alla chitarra e basso, Ziv Ravitz alle percussioni e all'elettronica, e Avin Cohen alla batteria. Come vi dicevo, questo è un disco particolare. Se è vero che si può parlare di jazz come matrice fondamentale, diciamo, del genere, dello stile del disco, non parlerei di un jazz ovviamente classico, o di un jazz particolarmente dedicato a chi appunto ascolta prevalentemente questo genere. Questo perché? Perché in realtà qui si fondono veramente molte influenze. Si potrebbe dire che è un album jazz rock, che però risente anche di una componente molto elettronica, molto elettronica, ma forse più ambiente che elettronica, anche se ovviamente c'è l'uso dei sintetizzatori, quindi c'è comunque dentro, ma addirittura si può dire che ci sia anche una certa matrice pop, nel senso migliore del termine. Se voi ascoltate, per esempio, un brano come King Kupner, che è il terzo della playlist, della track list, scusate, voi già potete capire bene come l'orecchiabilità, il ritmo, la base ritmica, diciamo, ciò che viene creato anche solo da basso e batteria, che potrebbe star bene tanto su un pezzo pop, quanto su un brano così, quanto riarrangiato con le chitarre elettiche distorte, anche su un brano, boh, grunge, punk, e volendo, cioè, veramente non ha limiti. Ecco, questo vi fa capire come l'album riservi parecchie sorprese e parecchi colori molto diversi. Nonostante questo, però, l'album ha ovviamente un filo conduttore sonoro molto centrato, ed è un album sicuramente che non esagera mai ritmicamente o sonicamente, diciamo, con dei suoni imponenti o distorti, eccetera, eccetera. non ci sono dei solismi forzati. Secondo me è un album ottimo per ascoltare della buona musica, suonata molto bene, con dei brani arrangiati in maniera particolare, che abbracciano, che scaldano l'ambiente in cui vengono diffusi, potremmo dire, e quindi anche un po' rilassarsi in queste melodie, in queste atmosfere create dai musicisti. Ovviamente non confondetelo, però, con un album prettamente ambient, prettamente, ecco, da sottofondo. Assolutamente non sto dicendo questo. Anzi, è un album in cui, comunque, pur non essendoci individualismi, però i musicisti si fanno sentire nella loro individualità mischiata nell'insieme. Suona la band, ma suonano, ovviamente, anche i musicisti. Questo disco mi dà lo spunto per parlarvi della ECM. La ECM è una casa di produzione tedesca, fondata da Manfred Eischer, molto famosa, direi uno dei pilastri assoluti mondiali del jazz. Ha, oramai, una storia corposa alle spalle, perché si parla, ha festeggiato, insomma, i 50 anni di attività. Mi pare sia stata fondata nel 69, perché, appunto, Manfred Eischer, il fondatore, viaggiava, frequentava molto gli Stati Uniti, in particolare New York. A quel tempo, ovviamente, la scena jazz era al massimo, no? Per quanto riguarda il jazz classico della sua esplosione, quindi lui racconta di aver fatto molti incontri, da Ornett Coleman a tantissimi altri, e quindi di essersi appassionato moltissimo a questa musica e di averla voluta, poi, appunto, esportare il più possibile in Europa. Fonda, quindi, la ECM e fonda con la ECM un preciso sound di cui adesso parleremo. I primi dischi, i primi artisti che vengono assoldati, insomma, tra virgolette, anche se la parola non è proprio bella in musica, sono che Jarrett, Cicoria, Gary Pico, che molti altri grandi, grandi artisti che poi sarebbero diventate veramente delle star internazionali, ma com'è che erano già comunque molto conosciuti. Parliamo, per esempio, ho nominato due artisti che, insomma, avevano lavorato già con Mace Davis, quindi, insomma, capiamo bene di che caratura stiamo parlando. Poi, in particolare, Key Jarrett, conoscete benissimo un disco pubblicato dalla ECM, sicuramente, almeno una volta nella vita lo avete sentito o avete visto la copertina bianca con la sua foto sul piano, che è, appunto, il Coln Concert. Quel concerto, famosissimo, tenuto a Coln, appunto, in cui, praticamente, Key Jarrett ha improvvisato tutto il concerto e ci ha regalato questa performance straordinaria che è diventato, da un lato, una gemma preziosa, dall'altro, un po' la sua condanna, perché si può dire che nella sua discografia si è un po' il suo Dark Side of the Moon, nel senso non tanto dell'opera del Masterpiece, perché poi di dischi belli ne ha fatti tanti, ma nel senso che veramente viene spesso ricordato e conosciuto, soprattutto, magari, da chi non è poco dentro al jazz, solo per quell'album e diventa, poi, una maledizione, a un certo punto, quel disco. Però è un bellissimo disco, insomma, ascoltatelo. Tutto piano solo, un po' particolare, forse pesante, per chi non è abituato a sentire i dischi di solo piano, però è sicuramente una delle perle del Novecento e non può mancare in collezione. Come vi dicevo prima, suono ECM. Allora, il suono ECM, ACM, se vogliamo dirla all'inglese internazionale, è qualcosa di molto particolare. Intanto, diciamo, ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, i suoi pro sono che subito è stata fatta una scelta di qualità assoluta. I dischi dell'ECM suonano tutti benissimo, perché sono stati registrati in studi di registrazione molto selezionati, con fonici selezionati, sempre sotto la direzione di Manfred, il direttore, ancora oggi, e, altrettutto, ha un ruolo molto attivo. Non solo segue, diciamo, la qualità della registrazione, ma interviene anche con i musicisti, proprio parlando della loro musica, dandogli dei consigli. Quindi è un personaggio molto, molto influente, diciamo, nella, ovviamente, sua stessa creazione, l'etichetta. Quindi, studi di registrazione selezionati, al top per quanto riguarda i sistemi di registrazione, al top per quanto riguarda la finalizzazione, il mastering del disco, al top per quanto riguarda i supporti, quindi che si parli di DCD o di vinile, eccetera. I vinili, per esempio, dell'ECM, sono una delle sicurezze per gli amanti, per i collezionisti, perché quasi sicuramente, un po' anche perché sono, di solito, sono tenuti da collezionisti o da appassionati che li trattano bene, ecco, non sono dischi punk, mettiamola così, un po' perché sono effettivamente registrati molto bene, stampati molto bene, il materiale vinilico è molto buono. Quindi, qualità assoluta. Quindi questo è un grandissimo pro. Voi sentite un disco dell'ECM, sentite buona musica, ve la godete, gli orecchi proprio godono. Quali sono i contro? I contro. Allora, parliamone. In realtà non sono contro, sono delle critiche che gli vengono mosse. Cioè, le critiche è che questo suono che viene impresso ai dischi dell'ECM sia poi una patina che riveste quasi tutti i dischi di tutti gli artisti. Una critica che spesso viene mossa all'ECM è di fare i suoni un po' più enormi del normale, cioè che quindi una tromba suona più grossa di come suonerebbe dal vivo. Un'altra critica che viene mossa è sugli effetti d'ambiente. Cioè, questo uso abbastanza forte, non fatto male, è fatto molto bene, però comunque sempre presente degli effetti d'ambiente, soprattutto del riverbero, che torna a essere una caratteristica di tantissimi dischi ECM e rischia di far suonare tanti dischi un po' simili. Ecco, mettiamolo così. Però, ecco, questa è una critica che viene fatta. Poi io vi dico, i dischi dell'ECM coinvolgono artisti stellari, sono registrati bene. Sì, è verissimo che hanno questa componente sonica molto in comune, però, d'altronde, sono dei dischi che spesso bisogna avere perché è tanta buona musica. Per quanto mi riguarda, la critica che io posso fare dell'ECM è meno male che non coinvolge questo disco che invece ha una copertina molto molto bella, ve la faccio vedere da vicino, una copertina che è opera dell'illustratore e fumettista David Ponosky, che tra l'altro è stato autore anche di una graphic novel molto bella, ispirata, ispirata, insomma, fondata sul racconto del diario di Anna Frank. Quindi, vi dicevo, questa copertina fortunatamente è molto bella, a me piace molto, inquadra i musicisti, anche se ovviamente stilizzati a fumetto, però, diciamo, ci dà un'immagine, ci racconta qualcosa, anche con le espressioni stesse di Avisha in persona che guarda in basso, cioè, è un racconto. Il problema delle altre e di tantissimo invece copertine ECM moderne in particolare sono che sono veramente tutte uguali e noiosissime, cioè, sembrano gli sfondi desktop quelli bellics tipo di pietra o qualcosa vista da un satellite oppure una sfocatura. Sì, cose che sicuramente fanno capo a una certa corrente artistica, però veramente ci sono decine, 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 decine di dischi che tu non riesci a primo occhitto a distinguere un musicista dall'altro. Aspetta, di chi è quel disco perché la serie di dischi dell'altro artista è completamente uguale? Ecco, questa è la critica che io posso fare alle ECM. Torniamo al disco, ho divagato anche troppo. Allora, come vi dicevo, il disco è molto vario. una cosa che bisogna dire subito sul suono di Avishai Cohen in particolare. Lui è tremendamente, secondo me, ma si sente bene influenzato dal Miles Davis di, soprattutto, di In A Silent Way in questo disco. Quindi, stiamo parlando di una tromba molto annegata nel riverbero, molto bella, e attenzione, con un modo anche di suonare che è molto ispirato a quel disco e a quel Miles Davis. Quindi, note scelte con cura, poche, ma buone. Dicevo a Miles Davis quando gli chiedevano perché suoni sempre meno note, lui diceva, io sono solo quelle giuste. Giustamente. Come vi dicevo, non c'è molto spazio all'individualismi, ai solismi, è un album suonato molto da band, dove la band vuole ricreare il brano e delle atmosfere più che una prestazione personale. Però, io mi sento di fare comunque complimenti a Uzi Ramirez, scusate, prima penso di aver detto Uri e Uzi Ramirez, a un uso della chitarra che va tra idee molto belle che spiccano ogni tanto e invece un accompagnamento che fa da tappeto, ma non è un tappeto, cioè, non è uno zerbino, mettiamola così. È un tappeto quando lo devo essere, ma è un bel tappeto su cui camminare molto comodi e con colori, insomma, ben distinguibili, vivaci, quindi mi è piaciuto molto molto l'uso della chitarra e penso che andrò a cercarmi qualche altra cosa perché io non conoscevo assolutamente questo Uzi Ramirez e vedo anch'io di documentarmi. I brani sono molto diversi, anche se legati da un filo comune, come vi dicevo, ma si passa da quel jazz pop rock di King Kattner che vi dicevo prima a riferimenti classici come Moonlight Sonata che ovviamente si rifà a Beethoven, a per esempio Fractals che richiama un po' di scale indiane e altre influenze esotiche particolari e poi ci sono, c'è una cover che è molto famosa, molto, molto famosa che onestamente quando io l'ho vista nel disco ho detto oddio mio, anche basta. Però, però, allora la cover è Teardrop dei Massive Attack. Se non vi ricordate il titolo è la canzone più famosa o l'unica se non conoscete Massive Attack però è l'unica che conoscete. Se ancora non mi sono fatto capire è la sigla del Doctor House ma dire così mi fa sanguinare il cuore. È un po' come quando a un negozio di dischi un mio amico mi raccontò che entrò una ragazza e gli chiese la sigla di stranamore riferendosi a All Only This Love dei Beatles. Vabbè, allora, parliamo di Teardrop. È una canzone che è stata sfruttata in 8 milioni di cover e quindi ed è poi proprio il classico dei classici di quella band cioè viene se voi poi andate vi capiterà mai di andare a una fiera i fai la sentirete praticamente ogni 5 minuti perché viene utilizzata spesso per testare anche gli impianti. Questa è Angel insomma è un po' tutto il disco dei Massive Attack. In questo caso allora mettiamola così non è un capolavoro non è qualcosa che spicca particolare devo dire che sul finale la canzone prende più interesse forse avrei continuato un po' di più perché quando prende più interesse va verso la conclusione però a onor del vero è una gran bella cover abbastanza fedele all'originale come sonorità come tipo di arrangiamento eccetera ovviamente la voce venne sostituita dalla tromba di Avishai ma che dire secondo me valeva la pena metterla nel disco io sono convinto che è stata messa in questo disco perché poi questo disco quest'anno doveva andare in tour questo tour non si è potuto fare ovviamente per le emergenze covid però io ho l'impressione che questa cover sia stata messa appositamente nel disco e a metà inizia il lato B per quanto riguarda il vinile per poi avere la stessa funzione durante live cioè spezzare un live dove si presentano tanti brani originali soprattutto legati appunto da un filo comune a come sonorità e poi si presenta nel mezzo una cover per diciamo ravvivare un po' l'attenzione del pubblico e farlo in maniera comunque bella e sapiente però ecco diciamo secondo me ha un po' questa funzionalità sul disco e l'avrebbe avuta anche sicuramente nel live dopodiché insomma i brani continuano cioè this time it's different non è no vabbè poi lo ascolterete il lato B per chi avrà il vinile io lo trovo più pacato più soffuso del lato A però è un disco che sicuramente non avrà bisogno di essere ascoltato in due volte la durata non è eccessiva i brani sono più o meno tutti tra i 4 e i 5 minuti quello che dura di più appunto dura 6 minuti è 0.3 quindi non abbiamo lunghissime performance e si presta appunto ad essere ascoltato e digerito molto bene è un album che a chi mi chiede mi fai sentire qualcosa di jazz moderno che però non sia ostico non sia veramente un jazz pieno di assoli uno dietro l'altro di migliaia di note quindi che non mi stufi eccetera allora ecco il disco di Avishai Coin Big Bicious è assolutamente il consiglio che io vi posso dare per avvicinarvi a un genere alla sua parentesi moderna ma non esserne stravolti ammazzati ecco diciamo è un disco quindi multicolor potremmo dire non ha l'entropia di un Pollock di una pittura di quel tipo ha molti colori ma insomma è tutto bene si segue bene ecco mettiamola così non c'è bisogno di fissare il quadro in questo caso ascoltare la musica più e più volte per capirci qualcosa direi proprio di no è un disco registrato benissimo quindi anzi io vi consiglio di metterlo ad alto volume ma non ad alto volume per stroncarvi timpani ad alto volume perché un disco dell'ECM può essere amplificato amplificando la qualità della musica e restando sempre dolce all'orecchio quindi io di solito quando ho un disco dell'ECM amo avere anche un impatto fisico perché mi consente l'ECM di averlo senza avere i timpani e i trapanati quindi Avishai Cohen questo è un disco che io vi consiglio per il 2020 Big Vicious buone ascolti